let's go bitch, se era da un po' che non facevo video perché mi sono molto concentrato sulla quad war league come sapete già da ieri non è andata molto bene ieri sera abbiamo perso nella partita prima dei quarti di finale nel 32esimi non so come si chiama non sedicesimi non sono ottavi? no bene abbiamo perso in quella partita contro un team che ha usato cose schifosissime come dingo 48 dredge tripmine c4 sixth sense e altre cose schifosissime e devo dire che ci sono veramente rimasto male poiché come posso dirvi noi avevamo chiesto di giocare senza quelle cose ci hanno detto fate come volete iniziano la partita utilizzavano tutti m8 vmp queste armi poi boom di colpo cominciano ad utilizzare 48 dredge dingo eccetera eccetera uno schifo queste persone facevano veramente schifo a giocare ma ormai per quello che devo dire i miei compagni perché io no ma i miei compagni si sono veramente agitati nervositi per quello che è successo hanno cominciato a giocare malissimo quindi mi dispiace per questa cosa perché è un'opportunità comunque enorme allo stesso modo mi dispiace perché mi sono allenato veramente tanto come avete visto non ho più strimmato fatto video altre cose perché ero concentratissimo su questi allenamenti l'altra cosa che è successa che mi dispiace tanto è il fatto che la community italiana come al solito si è dimostrata stupida immatura incoerente eccetera eccetera sono stato tutto il mio team compreso me stesso siamo stati butterati praticamente per tutte queste questi tre giorni di qualifiche io stesso sono stato butterato specialmente nei match contro gli italiani è successo contro i liquid team e torres sono stati butterati e questo perché è stato chiesto di non stremmare la partita noi abbiamo detto non stremmate la partita abbia paura che qualcuno ci butteri alla fine gli stessi italiani per questo motivo ci hanno butterato cosa terrestissima quello perché dovete capire che non è che ci paga qualcuno ci fa qualcuno per questo se dello streaming lo facciamo più che altro per noi non volevamo che arrivavano butter o altre cose abbiamo pagato ognuno 30 euro a testa per prenderci un vpn cioè una sorta di come posso dire di sistema praticamente di ip diverso che non può essere rintracciati ma come al solito mi hanno rintracciato anche con il vpn non mi chiedete come è possibile e ieri sera è successo anche nella partita contro i contro i sublime ma infatti ora vi farò vedere e ne sono veramente dispiaciuto io non ho nades ora, sono lagging ragazzi, la connessione è interruppata stanno cercando di buttare me stanno buttando me, stanno buttando me, stanno buttando me stanno buttando me, stanno buttando me, stanno tagliando me, stanna I have to kill him! I'm getting... One middle weak! One shot! One shot middle! One from the middle! I'm getting booted guys, I'm sorry. I will stay middle. I got one AC, I got one AC, two down, two down, one mid, three down, let's go! All right side, all right side, far right! Two people, three people! One middle! There's one more missing, one more missing, far right! One middle, one middle! Guys, wait a second, wait a second, I'm getting booted! What the fuck? I'm getting booted guys, I don't know what to do! I'm getting booted guys, I don't know what to do! and hopped! All right!